Sabato 18 alle ore 20 a 25, Fantozzi aveva un programma formidabile. Come? Va bene, va bene, ragioniera. Obediamo. Dami, Gospoda, io mi chiedi per stavare... ...Locomotive! Locomotive! Dobbiamo uscire? Che? Il dottor Ricardelli. No. Mi ha detto il ragionier Filini che dobbiamo... ...andare immediatamente a vedere... ...un finceco slovacco. No! Ma con so... Ugo! No! Ughino, non fare così!